Musica Ciao ragazzi siamo a Trento, un flycycling team, oggi finalmente è arrivato il sole al giro, siamo qui con i nostri ospiti, adesso ve li presento uno per uno, cominciamo da Nicola, Pino, Mara, Alessandro, Alessandro anch'io. Oggi tampa da Sega di Alatrento, corta, ma con due salite abbastanza toste, però comunque come dicevo prima c'è il sole quindi sicuramente ci divertiremo, i ragazzi sono tutti carichi e quindi anche il nostro capitano Medeo che ha ancora la maglia bianca e quindi oggi partiamo molto molto tranquilli e contenti. Musica 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 Grazie a tutti.